Prima di guardare il video, voglio ricordarti di premere il pulsante iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Opinioni contrastanti su Elisabetta Gregoraci hanno scatenato un dibattito acceso. Durante la sua partecipazione a Battiti Live 2023, l'ex moglie di Briatore ha indossato un abito che ha diviso il pubblico. La scollatura ampia, l'abito attillato e le trasparenze evidenti hanno suscitato reazioni negative da parte di alcuni telespettatori, che hanno espresso le loro opinioni sul suo ultimo post su Instagram. Un utente ha scritto, ma perché devi vestirti in modo così provocante? Sembri più adatta a girare un film per adulti con Rocco Siffredi piuttosto che a condurre uno spettacolo in prima serata. Hai disturbato mio figlio di sei anni e ho dovuto cambiare canale. I commenti critici degli utenti sono stati numerosi, stavi cercando solo di attirare l'attenzione sugli artisti? È ovvio che ti sei vestita così per alimentare il gossip, ha scritto un altro. Altri hanno commentato, l'abito è volgare, non mi è piaciuta affatto. È strano perché di solito la adoro, ma questo non sembra il suo stile, quel vestito ha impedito a mio marito di ascoltare nemmeno mezza canzone. Poveretto. Infine, c'è stata una stoccata finale. La classe è qualcosa di diverso. Non c'è nemmeno la parte anteriore del vestito, non serve immaginare il nudo. È gratuito. Gratis. Avrebbe potuto evitare, dai. Al momento, Elisabetta non ha risposto né commentato le critiche. Chissà se li leggerà e cosa deciderà di fare in seguito.